Nell'ambito della legge sull'invecchiamento attivo che la Regione dell'Umbria ha promosso fortemente nell'ambito delle politiche sociali, la Regione dell'Umbria ha fortemente sostenuto il portale per gli anziani come elemento, eleva, determinante e importante per la diffusione dell'innovazione tecnologica nell'ambito del piano digitale della Regione dell'Umbria. Questa è un'iniziativa positiva, complessa, che sicuramente darà valore aggiunto alle conoscenze e anche alle esperienze che gli anziani potranno fare con l'uso delle nuove tecnologie della comunicazione. Su questo progetto poi a Latere ne sono tanti altri che sono rivolte alla popolazione anziana Umbra sempre con l'obiettivo e l'ottica di far sì che possono utilizzare al meglio i servizi che la pubblica amministrazione intende, come dire, declinare in termini diversi, appunto in forma digitale per rendere l'amministrazione non solo più trasparente ma più accessibile e più, come dire, alla portata della popolazione anziana.